lunedì 28 settembre presso la sala degli stemmi della provincia di cosenza dignità del lavoro cooperativa e sociale ha presentato la campagna di raccolta fondi dal nome regala un'opportunità per la realizzazione di un laboratorio editoriale finalizzato all'inserimento al lavoro di giovani a rischio dignità del lavoro cooperativa sociale e attiva sul territorio dal 2012 ed i soci hanno una lunga esperienza nell'ambito della promozione di iniziative per l'integrazione di persone con storie difficili alle spalle come ex detenuti tossicodipendenti giovani che hanno compiuto reati minori a rischio il progetto imprenditoriale prevede l'allestimento e la gestione di un book shop all'interno del museo dei bretti e degli enotri di cosenza l'investimento è mirato all'acquisto di attrezzature e macchinari per la stampa tecnologicamente avanzati che consentono l'avvio di un'attività imprenditoriale per la produzione di servizi editoriali di vario tipo i futuri finali di questo intervento perché il bookshop che la cooperativa sociale di vita del lavoro va a realizzare con il progetto di solidarietà sociale che ne comporta verrà realizzato all'interno del museo dei bretti e degli enotri che quindi avrà la possibilità di offrire un servizio nuovo ai visitatori che naturalmente assume a questo in questo contesto un valore fortemente sociale educativo rispondendo anche a quella che è la missione principale di un museo che appunto una missione di natura culturale e educativa l'idea che abbiamo è creare uno spazio per poter favorire inserimento al lavoro di ragazzi che hanno compiuto reati e che quindi sono in carico dal sistema della giustizia vogliamo farlo all'interno di un sistema produttivo quindi in un laboratorio editoriale che produrrà i materiali che poi saranno messi in vendita nel bookshop del museo abbiamo infatti concordato ottenuto diciamo con l'amministrazione comunale la gestione del museo dei bretti e degli enotri e quindi tutti i materiali che saranno prodotti da questi ragazzi finiranno per essere nelle mani dei cultori dell'archeologia cosentina ci sembra un modo come dire certamente innovativo di trattare la questione dell'inserimento sociale coniugare l'inserimento sociale e cultura è un modo per dire a questi ragazzi avete la possibilità di sperare in un futuro vero perché contribuite alla crescita della società nella quale state noi adesso faremo nelle prossime settimane l'acquisto di tutte le attrezzature per allestire il laboratorio editoriale stiamo già lavorando alla ideazione dei materiali che saranno messi in vendita nel bookshop quindi guide opuscoli è un gioco di società e così via e dal momento in cui saremo pronti quindi quando sarà allestito il laboratorio da quel momento cominceremo attraverso una convenzione con il sistema della giustizia minorile ad ospitare i ragazzi per avviare i percorsi di inserimento contiamo entro l'anno che tutto questo sia attivo i ragazzi che sono intorno alla maggior età tra i 17 mediamente e 20 anni che hanno compiuto reati quando erano minori reati che a volte sono anche piccoli reati ma spesso invece sono reati magari più più importanti ma che attraverso questo processo in particolare l'istituto della messa alla prova che è un istituto diciamo previsto proprio per i minori che compiono reati possono riscattarsi possono fare in modo che la pena sia cancellata e reato estinto martedì 24 novembre si alza il sipario sulla stagione teatrale 2015 2016 sul palco dello storico teatro alfonso rendano di cosenza evento patrocinato dall'amministrazione comunale della città dei bruzzi ed organizzato da un gruppo di operatori del mondo dello spettacolo locale stiamo parlando di enzo noce giuseppe citrigno e gian luigi fabiano sul palco del teatro rendano 12 appuntamenti prosa commedie e tanta musica questi ingredienti del cartellone ideato da l'altro teatro si è parlato di questo presso il chiosco di san domenico giovedì primo ottobre si conferma la virtuosa sinergia pubblico privato spiega l'assessore al teatro rosaria succurro una strada che già abbiamo intrapreso e che ha dato ottimi risultati la vera novità secondo l'assessore succurro e che quest'anno si alterranno la lirica curata dall'amministrazione comunale con la prosa organizzata dall'altro teatro la nostra terza edizione abbiamo riproposto all'amministrazione comunale questo progetto questo modo di fare teatro molto innovativo comunque non molti piazzi c'è questa operazione pubblico privato abbiamo avuto due stagioni esaltanti abbiamo avuto l'affressamento del pubblico e quindi anche quest'anno ti proponiamo un cartellone molto molto importante quest'anno la stagione parte prima perché la menzione comunale ci ha chiesto di intercalare gli spettacoli di prosa con la lirica che si interessa direttamente dal comune e quindi anche questa è un'innovazione dopo tanti anni in cui la prosa seguiva la lirica quindi nel periodo gennaio maggio invece quest'anno nelle maggiori città italiane la prosa inizia dalla metà di novembre si intercalerà con la lirica avanti fino alla fine di aprile con la nostra direzione artistica in zona oggi gioco di fabiano ma primo lavoro perché tre spettacoli transiteranno dal sistino e verano direttamente a cosenza è un impegno però è anche un orgoglio per la città perché stiamo avendo questa 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 risposta da parte di questi più importanti importanti spettacoli che ci rendono orgogliosi soprattutto come cittadini perché si riscopre questo grande carlo in una versione di altra probabilità si chiama controcorrente l'ultimo lavoro performativo dell'artista italiano paolo angelo santo la performance messa in opera nel pomeriggio di giovedì 1 ottobre ha rappresentato il primo progetto di una serie realizzati durante la permanenza a cosenza l'azione pensata espressamente per la città è stata ispirata da quello che è il flusso del fiume adiacente ai box destinati agli artisti in residenza il progetto un'indagine eco performativa è un'occasione di riflessione dell'artista che si misura con l'ambiente l'artista paolo angelo santo ha percorso il fiume crati da piazza dei valdesi fino ai box art degli artisti è stato seguito da molti degli artisti che alloggiano presso i box insieme ad altre persone ed applaudito al termine della performance box è un progetto che nasce il 4 luglio di quest'anno sono delle residenze delle residenze d'artista in cui appunto a rotazione ogni 14 giorni arrivano degli artisti per lavorare qui nello specifico e per lasciare un'opera al fine dei 14 giorni che abbia attinenza con quello che il paesaggio di cosenza il suo la sua storia sta paolo angelo santo artista che nasce a saint denis e successivamente si trasferisce in italia dove tutt'oggi vive e lavora appunto è un artista attivo nel campo della performance come appena detto tu il titolo è controcorrente l'artista parte sempre da quello che è un titolo e sviluppa poi quella che sarà la situazione lo specifico oggi attraversato appunto il fiume adiacente alle residenze d'artista il presidente della regione calabria mario oliverio ha deciso di prorogare la validità della discarica di celico sino a fine anno la discarica è oggi affidata a raffaele vrenna imprenditore crotonese noto alle cronache per essere stato condannato e poi assolto in appello per concorso esterno in associazione mafiosa nel pomeriggio di giovedì 1 ottobre con un rinnovo firmato dal dipartimento ambiente della regione calabria l'emendamento che autorizza tutti gli impianti privati in calabria a trattare i rifiuti tal quale è stato prorogato sino a fine dicembre a decretarlo è un documento che è apparso intorno alle 18 forte dell'autorizzazione del governatore mario oliverio la cittadinanza insieme agli attivisti del comitato ambientato presilano si è già mobilitata ed è in fermento continuando la propria battaglia di opposizione contro la costruzione della discarica manifestata durante un corteo tenuto proprio celico nella settimana precedente il 2 ottobre in molte città di tutto il paese gli studenti medi sono scesi in piazza per contestare la buona scuola progetto di riforma scolastico portato avanti dall'attuale governo a cosenza un corteo studentesco di 300 ragazzi ha attraversato le vie della città partendo dal concentramento di piazza loreto fino ad arrivare a piazza 11 settembre i temi principali sono il rifiuto del processo di aziendalizzazione della scuola con la figura del preside manager il rifiuto dell'alternanza scuola lavoro che garantisce all'azienda il lavoro gratuito sottraendo numerose ore allo studio e creando una nuova ondata di giovani precari la digitalizzazione degli istituti che porta solo ad un maggiore controllo degli alunni e ad uno sperpero di risorse altri temi sempre più stringenti sono la critica al caro libri al caro vita e al caro trasporti questo sciopero è stato chiamato appunto per dire no alla buona scuola di renzi per dire no al job act e per dire no all'austerità che sta affamando c'erano migliaia milioni italiani per riconquistare diciamo i diritti che i lavoratori negli anni 70 vanno conquistato questa è una data nazionale chiamata la stud house e si manifesterà in altre piazze italiane una buona scuola ci saranno scuole di serie a e scuole di serie b le scuole di serie b soprattutto a sud che non avranno diciamo questo sponsor che potrà pagare tutte quante le diciamo le migliorie della scuola rimarranno scuole che in questo momento avranno un disagio enorme per esempio ci sono scuole che cadono a pezzi mentre scuole con private per esempio a cui vengono dati maggiori maggiori soldi con appunto questi sponsor più grandi possono dare un'istruzione maggiore